Signor colonnello, tenendo innocenzi, accade una cosa incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. No, allora tutto è finito signor colonnello, ma non potresti avertire i tedeschi che stanno continuando a sparare. Mi scusi signor colonnello, ma cerchi di comprendere, io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini?